Siamo insieme ad una delle operatrici che non si arrendono a questo gruppo nato all'interno appunto di crescere insieme e composto dalle educatrici degli asili Nido. Oggi avete fatto di aderire anche voi a questa manifestazione, a questo sciopero sindacale appunto tentando di fare all'interno del discorso che si sta facendo in questo momento sui servizi in questa città. Appunto qual è la vostra posizione e come vi collocate? Allora, io intanto sono Antonella, sono educatrice di Asino Nido e oggi siamo qua come operatrici che non si arrendono e come praticamente voce dei servizi educatini del comune Alessandrino per dire che non vogliamo arrenderci a un dissesto che sta facendo morire tutto. I primi sui servizi, oggi tutte le persone che sono scese in piazza perché riconoscono che Alessandria così come sta andando sta veramente morendo e non vogliamo arrenderci a questo, crediamo nel lavoro che facciamo crediamo nel fatto che bisogna investire sui servizi, non tagliarli e quindi vogliamo chiedere non solo all'amministrazione Alessandrina che da una parte ci può mettere anche il suo e si sta impegnando in certe cose ma proprio che la nostra voce arrivi oltre e che veramente lo Stato, l'Italia si renda conto che tagliare i servizi, tagliare tutto quello che viene fatto per una città porta solo alla morte della città. Come operatrici che non si arrendono rappresentiamo persone che sono precarie anche in questo mondo e vogliono in qualche modo poter lavorare con un contratto di lavoro che sia stabile e che possano così lavorare in modo più tranquillo e quindi siamo solo per questo, per giustare forte, con gioia, con allegria e in modo colorato perché abbiamo ancora una speranza che non possa finire tutto qua e che il dissesto non porti via veramente anche noi e i servizi. Grazie mille, buona manifestazione.